tra l'altro stasera c'è la finale di amici quindi mi raccomando tutti quanti a vederla tutti 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 perché i ragazzi se lo meritano cioè so il lavoro che c'è dietro so tutti i macchinisti che hanno lavorato per quest'ultimo spettacolo e credetemi non è poco il lavoro quindi vanno elogiati ed è giusto che sia così tutti i professori la stessa Maria tutti i ragazzi anche di tutto vi voglio un bene dell'anima il pubblico che va lì tutti meritano di essere guardati e questa sera c'è la finale veramente do un in bocca al lupo a tutti i miei amici che stanno lì dentro magari la vedrete un altro giorno questa storia però spacca è è è è Grazie a tutti.